Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Fight the Virus. L'ospite di oggi è la dottoressa Camilla Alderighi, benvenuta. Grazie Francesca, grazie mille dell'invito. Oggi è il 13 dicembre del 2022, è una puntata del nostro canale che ci permette di avvicinare gli esperti e riguadagnare un po' quel livello di conversazione che solitamente non abbiamo come pazienti o come caregiver durante la visita ambulatoriale. Spesso ci capita di uscire fuori da queste visite in cui incontriamo esperti, professionisti medici o altro, in cui ci rimangono sempre tante domande nella testa e quindi ci fa piacere aprire questo canale che è un canale di approfondimento. Il tema della giornata è un tema legato a come prendere decisioni consapevole sulla salute, che possono riguardare la nostra salute ma anche la salute delle persone di cui ci prendiamo cura. Per questo abbiamo invitato Camilla Alderighi, che è una cardiologa, che per me è un grande punto di riferimento. Io quando ho dei dubbi sulla letteratura, nonostante non ci sia da parte mia magari un interesse specifico per cardiologia, perché non è un tema che riguarda le nostre famiglie direttamente, però tutte le volte che ci sono dubbi sull'interpretazione delle fonti, sulla lettura di alcuni articoli. Camilla per me ha un grande punto di riferimento, sia perché fa parte anche del direttivo dell'associazione Alessandro Liberati, poi magari diciamo qualcosa anche su questo, e perché è responsabile, corresponsabile del progetto declinato in Italia di Informa e del Choices. Quindi Camilla, io oltre a darti il benvenuto ti farei dire due parole appunto sulla associazione Alessandro Liberati e su questo progetto che è un progetto molto nuovo per l'Italia. Sì, allora l'associazione Alessandro Liberati è intitolata appunto a lui, ad Alessandro Liberati, che è stato il primo ricercatore epidemiologo che ha portato in Italia l'evidence-based medicine, quindi la medicina basata sulle prove, che in sostanza è lo strumento che tutti noi medici e ricercatori usiamo a livello internazionale per decidere se le affermazioni su certi tipi di trattamenti per la nostra salute che noi leggiamo, che ascoltiamo, che vediamo negli studi, sono affidabili o meno. Quindi è proprio uno strumento di valutazione critica. E Alessandro Liberati l'ha portato in Italia e non solo è stato anche uno dei cofondatori della Cochrane Collaboration, che è un'organizzazione che si occupa appunto della valutazione qualitativa della letteratura medica a livello internazionale, che ha una sede anche in Italia. E appunto l'associazione Liberati è uno dei centri Cochrane italiani, che quindi si occupano di vegliare, vigilare, in qualche modo anche da fornire un feedback critico a quella che è la letteratura, la qualità della letteratura medica e quindi delle evidenze che poi ci servono per prendere delle decisioni sulla nostra salute. E quindi tanto più è bene sottolineare che è un'associazione indipendente, proprio per questo è molto libera da giudizio, da valutazione, perché è guidata solo da questi interessi di fare pulizia, creare evidenza su quelle che sono l'efficacia delle prove, no? Sì, e direi anche spingere verso un'agenda della ricerca che sia, come diceva Alessandro, utile per le persone, non utile per l'industria farmaceutica, non utile per la pubblicazione accademica o per altri fini, ma che sia utile perché quando io mi trovo nello studio medico con i miei pazienti davanti e dobbiamo decidere su una cosa che riguarda la loro salute o la salute di tutti, dobbiamo avere le prove disponibili, diciamo, che siano utili per poter decidere. E quindi prove o comunque evidenze della letteratura che siano costruite sulla base di altri interessi, come vendere un prodotto o pubblicare uno studio per far proseguire il proprio curriculum, che sono cose che comunque purtroppo esistono e bisogna essere in grado di vederle e non sono proprio utili per prendere decisioni informate. Verissimo. E anche il progetto Informal Choices, che tu, insomma, conosci bene, ne abbiamo condiviso molte volte, ne abbiamo chiacchierato molte volte, è un progetto anche questo internazionale, che non a caso è stato fondato da alcuni dei promotori della Cochran Collaboration, per la verità, da uno dei fondatori, che è Ian Chalmers, e è un progetto che è partito da un finanziamento del Consiglio di Ricerca Norvegese e ha l'obiettivo di insegnare alle persone gli strumenti del pensiero critico per valutare se le affermazioni sui trattamenti per la salute sono affidabili o meno. E la cosa bella di questo progetto è che iniziano a farlo a partire dalla scuola primaria, quindi a partire dai bambini non proprio della prima elementare, ma diciamo della quinta elementare, quindi dagli 11 ai 13 anni, e loro hanno sviluppato tutta una serie di risorse didattiche, tra cui un libro di testo che è un fumetto, che io e il dottor Rasoini, che è appunto mio compagno di vita e di ricerca, direi, abbiamo tradotto nel 2019 e quindi abbiamo portato in Italia, senza finanziamenti, anche in questo caso, con il supporto morale, logistico dell'Associazione Liberati e del pensiero scientifico editore. L'abbiamo portato in Italia semplicemente perché siamo due genitori anche noi e volevamo che le nostre figlie potessero anche loro giovarsi di questo materiale che poteva fin dalla loro giovane età insegnare loro alcuni concetti chiave. Perché la cosa bella che ripetono sempre i fondatori di questo progetto è che per valutare le affermazioni sui trattamenti per la nostra salute non è necessario essere medici o scienziati o ricercatori, ma basta avere una conoscenza di base di alcuni concetti fondamentali e questi sono quelli che si cominciano a insegnare a partire dalla scuola primaria e via via si raffina il curriculum man mano poi che il bambino cresce. Quindi dicevi Camilla avete iniziato nel 2019 con quest'opera di divulgazione di insegnamento agli insegnanti che poi trasmettono queste competenze agli studenti. Da allora però quante persone siete riusciti a raggiungere? So che avete anche valutato voi stessi in termini di efficacia di questo progetto, no? Sì, sì, allora diciamo che abbiamo iniziato con un progetto pilota in una scuola primaria fiorentina dove siamo stati noi, quindi noi due medici insieme agli insegnanti della scuola a portare le lezioni ai bambini. È un progetto questo di 9-10 lezioni di un'ora ciascuna e noi facevamo una lezione a settimana. Poi abbiamo valutato il feedback degli insegnanti e dei bambini e abbiamo pubblicato i risultati su FML Research che è una rivista internazionale, insomma i risultati sono reperibili e ci sono anche tantissime bellissime osservazioni degli insegnanti e dei bambini. Quindi è stato un progetto di divulgazione del pensiero critico ma direi di critical health literacy, poi se spieghiamo poi questo termine perché quindi non è soltanto un progetto di health literacy questo ma proprio di critical health literacy. Spieghiamo subito questa cosa Camilla, così entriamo all'interno della nostra chiacchierata. che cos'è l'health literacy, no? Se ne parla tanto, forse più a livello internazionale però anche in Italia si comincia a pensare che sia giusto dotare i cittadini di alcuni strumenti appunto per prendere decisioni consapevoli sulla salute. Ce lo racconti un po'? Esatto, mi viene in mente, come hai detto te, che di fatto la health literacy è uno strumento della democrazia di fatto, perché dà alle persone un altro, anche un tipo di capacità, diciamo di controllo delle proprie decisioni che poi sono sulla propria salute. Quindi di fatto è uno strumento della democrazia la health literacy. Per health literacy si intende la capacità di poter ricercare, approdare a fonti, a contenuti che riguardino la salute, la capacità di poterli leggere, comprendere e poi anche di poterne ricavare delle decisioni, quindi di arrivare a prendere delle decisioni sulla base della comprensione di quello che io ho letto o delle informazioni che ho ricevuto. Ora, questa capacità purtroppo non è così diffusa nella popolazione e in particolare appunto c'è un'indagine abbastanza recente, mi sembra del 2017, su nove paesi europei, tra cui anche l'Italia, in cui si vede che il 37-40% della popolazione europea ha una health literacy insufficiente o problematica. Se andiamo a vedere solo l'Italia, questo numero sale al 54%. Quindi vuol dire, fammi vedere se capisco bene, che metà della popolazione italiana quando prende delle decisioni che riguardano la salute o sbaglia a consultare le fonti o sbaglia a trovare l'articolo, la pubblicazione che lo riguarda o sbaglia a leggerlo e interpretarlo? Sì, perché non ci vengono dati gli strumenti per poterlo fare e quindi chiaramente questo non è un tipo di insegnamento che a meno di essere degli addetti ai lavori, noi non riceviamo. Quindi anche se io sono laureato in lettere, è difficile che abbia ricevuto un insegnamento sulla health literacy specifico. Allora, certamente le persone più svantaggiate da un punto di vista socio-economico, quindi quelle che hanno un curriculum per esempio di educazione che non comprende la laurea sono ancora più svantaggiate, perché chiaramente non hanno nemmeno i punti di riferimento per andare a cercarsi le fonti e per interpretarle. Però questo deficit, questa carenza riguarda poi un pochino tutti. E forse l'abbiamo visto Camilla anche in situazioni recenti, no? Veniamo fuori da periodi emergenziali, periodi in cui appunto ci siamo inventati anche questo canale per mantenere un punto di contatto con la nostra comunità. Però è stato un periodo questo del Covid e post-Covid in cui siamo stati tutti più esposti, no? Rispetto alle informazioni che riguardavano la salute. È emerso qualcosa in particolare su questo periodo laboratorio, diciamo, su questo momento particolare? È emersa ancora di più la nostra vulnerabilità, nel momento in cui ci mancano gli strumenti per poter comprendere quello che ci circonda e soprattutto nel momento in cui siamo, appunto dicevo, infine sbattuti in mezzo a un mare di parole, magari anche a un mare di contenuti in contraddizione tra loro. Nel momento in cui siamo, diciamo, come la pallina da flipper, spintonati di qua e di là dai vari esperti, io mettendomi nei panni, diciamo, di una persona che non ha ricevuto una formazione sanitaria, insomma, mi sento veramente a disagio. Molte persone si sono sentite veramente a disagio e vulnerabili perché dovevano prendere decisioni importanti per se stessi e per i propri cari, però è un pochino difficile farlo se siamo in un'infodemia, appunto, non a caso è stato coniato questo termine di infodemia, quindi in un mare di informazioni e non sappiamo dove andare. Probabilmente questo è anche all'origine di una tendenza che esisteva già prima della pandemia, cioè il fatto che per esempio in un'indagine che è stata condotta in Gran Bretagna è stato visto che il 65% delle persone chiedono, si fidano di più dei consigli del parente, dell'amico o della star della televisione per prendere decisioni sulla propria salute piuttosto che sul parere del medico. Ora, non so se questo, diciamo, da un punto di vista del parere del medico in Italia può essere trasferibile perché io credo che le persone qui in Italia abbiano abbastanza la cultura dell'andare a chiedere al medico se magari hanno visto qualcosa su internet, perlomeno i miei pazienti, i pazienti dei miei colleghi spesso lo fanno. Però insomma rimane sempre il fatto che per certi trattamenti che magari riteniamo più innocui e invece magari non lo sono, tipo quelli erboristici, quelli che tra virgolette definiamo naturali, magari ci fidiamo del consiglio del parente o dell'amico per scegliere se assumerli o meno, piuttosto che informarsi su quelle che sono le prove della loro efficacia. Su questo Camilla, abbiamo detto che appunto questo periodo del Covid ci ha reso sicuramente più vulnerabili tutti, ma c'è anche un'altra influenza che può aver avuto non solo negli anni più recenti ma anche negli anni più addietro, l'apertura dei diversi canali informativi e quindi questo famigerato dottor Google a cui tutti chiedono informazioni online. È così un male avere questo mare di informazioni a disposizione oppure ha avuto anche dei vantaggi la diffusione di questa nuova informazione attraverso canali online? No, no, sicuramente non è un male. Appunto diciamo internet come tutti gli strumenti dipende dalla qualità di chi lo usa. Quindi diciamo che è stato un bene anche, allora da un punto di vista dei medici, dei ricercatori, per esempio Twitter è stata una risorsa incredibile perché ha permesso al di là delle barriere universitarie, al di là di quello che succedeva prima, laddove solo chi appunto era nell'accademia poteva avere accesso a determinati contenuti, mentre invece paradossalmente chi faceva il medico sul campo molto meno, invece con i social media, con la condivisione dei paper, quindi degli studi clinici, delle esperienze di colleghi anche internazionali, questo ha permesso diciamo anche a persone che non sono dentro l'università di poter accedere a contenuti, a informazioni di prima mano che nella pandemia erano indispensabili, per esempio negli ultimi due o tre anni sono diventate indispensabili. Per le persone anche va benissimo avere, non il dottor Google, ma va benissimo avere uno strumento che permette loro di ricercare fonti non necessariamente anche italiane, anche diciamo in altra lingua, lingua inglese, la inglese americana, però chiaramente ci si sente un po' persi se non si sa dove e che cosa andare a cercare, perché se si cerca senza un timone e siamo sempre lì con la metafora della barca, poi non si arriva da nessuna parte, quindi dobbiamo avere una rotta abbastanza definita per poter cercare le risorse giuste. Quindi il nostro timone è un po' lo spirito critico, cioè sviluppare anche questa capacità di leggere le informazioni, cercarle in maniera più, non so come si può dire, più acuta o più… Sì, più specifica, più acuta, ma anche non solo cercarle attivamente che è il top, diciamo, ma anche nel momento in cui passivamente le riceviamo, saper drizzare le antenne su quelle che sono le criticità di certi tipi di affermazioni sui trattamenti. Se vuoi possiamo fare degli esempi? Assolutamente sì, cominciamo pure a dare delle indicazioni, delle strategie utili anche attraverso gli esempi, che magari è più facile. Esatto, allora quando si parlava di critical health literacy si intende proprio questo, cioè io mi riferisco ora al progetto che si porta nelle scuole primarie e secondarie, quindi si dà ai bambini uno strumento che consente loro di riconoscere quelle che sono le basi scorrette di alcune affermazioni sui trattamenti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è qualcuno che fa un'affermazione tipo la valeriana è efficace per addormentarsi prima la sera, ci si chiede perché fai questa affermazione, cioè qual è la base di questa affermazione e qualcuno potrebbe dire perché la mia cugina l'ha usata e prima aveva problemi a dormire e addormentarsi da quando ha assunto la valeriana il suo sonno ha migliorato molto e questa è un'affermazione su un trattamento dove il trattamento è la valeriana, ai bambini si insegna a riconoscere quindi qual è il trattamento, qual è l'effetto, quindi permettere alla persona ad avere un sonno più regolare, di addormentarsi meglio e prima e qual è la base? La base in questo caso è quella che si diceva prima, quella a cui le persone ricorrono più spesso quando si parla fra noi dei trattamenti. L'esperienza? Brava e anche te accennavi prima che anche fra genitori spesso è così, quindi ho dato questa medicina o questo trattamento a mio figlio o mia figlia, ha funzionato e quindi te lo comunico anche diciamo in un gesto di appunto di buona diffusione, di diffusione in buona fede. Il problema è che l'esperienza personale di qualcuno che ha usato un trattamento non è una base sufficiente a dirci che quel trattamento sia efficace to cure, perché questo? Perché ai bambini si insegna che trattamenti diversi hanno effetti diversi, leggermente diversi su persone diverse, addirittura lo stesso trattamento può avere un effetto diverso a seconda della persona, quindi e in più nel momento in cui io prendo la valeriana per dormire e magari poi nei giorni successivi vedo che mi addormento meglio, io non so quello che sarebbe successo al mio sonno se al posto della valeriana avessi preso una pillola di zucchero, quindi quello che si insegna ai bambini è che se uno vuole valutare l'efficacia di un trattamento, l'esperienza personale del nonno, dell'amico, del cugino, ma nemmeno dell'esperto va bene, quello che va bene è sapere se ci sono degli studi di confronto di un trattamento con un altro. Quindi quando, non lo so, Guinette Paltrow sul sito, sul suo sito, insomma, di cui non mi ricordo il nome, ma è un sito abbastanza popolare a livello internazionale, ci dice che lei ha usato l'apiterapia, quindi prodotti originati dalle api, per curare un'ustione, che l'ustione è guarita, anche qui quello che ci si deve chiedere è ma cosa sarebbe successo se Guinette Paltrow non avesse usato l'apiterapia, perché un fatto è che la maggioranza, tantissimi problemi di salute che abbiamo poi regrediscono da soli, è vero per tante malattie virali, è vero per tante ferite, quindi talvolta è necessario l'aiuto e il trattamento funziona, ma talvolta no, quindi se questo è vero io come faccio a sapere se è stato il trattamento a causare quell'effetto? Ecco, per illuminare il rapporto di causa-effetto, quindi per sapere davvero se un trattamento è stato la causa di quell'effetto, io devo confrontare questo trattamento o con niente, il famoso placebo, oppure con un altro trattamento magari più vecchio, più tradizionale e in due gruppi di persone. Quindi non mi basta farlo in maniera casalinga, dire do a mio marito un altro trattamento e poi ci confrontiamo fra di noi, no? Anche su questo mi devo basare su delle prove, su qualcosa che sia stato testato anche su dei campioni numericamente rilevanti. Esatto, perché per esempio se io vado a vedere gli studi sulla valeriana, purtroppo gli studi di confronto sulla valeriana hanno mostrato che rispetto al placebo, quindi a una pillola in tutto e per tutto simile a quella della valeriana, ma che non conteneva il principio della valeriana, purtroppo l'aumento dei minuti di sonno notturno nei due gruppi di persone, chi prendeva la valeriana e chi prendeva il placebo, era uguale. Quindi diciamo che in questo caso il confronto ha illuminato il rapporto causa-effetto, cosa che purtroppo l'esperienza personale non può fare. Cosa c'è, Camilla, nella lettura e nell'interpretazione di questi studi che ci fa dire, ci fa comunque continuare a prendere la valeriana perché siamo convinti che ci faccia addormentare di più o ci fa anche promuovere questo trattamento verso gli altri. Cosa scatta nel nostro cervello per cui nonostante appunto tu ci dica che questo studio è stato testato su tante persone così, però quando ci dobbiamo addormentare siamo ancora influenzati da questo pensiero? Bellissima domanda, perché in realtà scatta la nostra narrativa, quindi scatta il fatto che noi come esseri umani siamo propensi ad attribuire un rapporto causa-effetto a quello che ci succede e quindi è molto difficile, ma parlo anche personalmente, anche se io lo so, staccarsi dal concetto ho preso la valeriana ho dormito di più, perché uno pensa, ma hai visto mai? Cioè anche se lo studio dice così, su di me ha avuto effetto. Allora, probabilmente talvolta quello che si scatena in questi casi è l'effetto placebo, che è un effetto che esiste e diciamo nelle conversazioni medico-paziente talvolta viene fuori questo effetto, cioè nel momento in cui le persone assumono prodotti magari più, che sembrano più naturali e pensando che possano essere efficaci e per alcuni in realtà è vero, cioè per esempio la crema al peperoncino, che è un esempio che si porta ai bambini, è efficace nel far alleviare il mal di schiena. Ci sono degli studi su questo, cioè ci sono degli studi di confronto. Sulla valeriana purtroppo non abbiamo gli stessi dati di efficacia, ma le persone talvolta mi dicono, io lo so che non ci sono dati di efficacia, però non mi fa male, cioè non ho effetti collaterali, mi fa dormire di più da quando la prendo, io come dire vado avanti e va bene, cioè è possibile. C'è una sorta di autocondizionamento, ci diamo un po' delle scusanti su qualcosa che sappiamo che non ha tanti altri effetti collaterali. Il problema, esatto, il problema però è che tu lo puoi fare nel momento in cui una sostanza, siamo sicuri che non abbia tanti effetti collaterali, mentre non lo puoi fare al contrario e in realtà il fatto che un prodotto sia di origine per esempio fitoterapica o erboristica, non significa che non possa avere effetti collaterali, perché ovviamente le medicine poi derivano dalle erbe, ci sono delle erbe come la bella donna o la digitale che se prese in quantità importanti sono dannosissime per la salute, quindi naturale non significa per forza innocuo, quindi questo ce lo dobbiamo ricordare, quando discutiamo di prodotti naturali o derivanti dalle piante, dobbiamo sapere se ci sono degli studi di confronto che hanno dimostrato delle evidenze e se anche non ci sono, ma appunto noi vogliamo adagiarci sull'effetto placebo e ripeto non c'è niente di male, però dobbiamo essere sicuri che quelle piante per esempio non interagiscano con altre medicine che io già sto prendendo oppure con la salute dei miei organi apparati, perché magari determinate fragilità rispetto a quei prodotti. Anche rispetto all'assorbimento di alcune terapie che sto prendendo, nel nostro caso capita spesso su prodotti lassativi che magari vengono dati ai bambini che prendono anche farmaci antiepilettici e quindi questi integratori o queste sostanze che ci sembrano così naturali e apportano un vantaggio specifico a un problema temporaneo, magari dall'altra parte hanno effetti anche sull'assorbimento di questi farmaci. Tu dicevi prima che non c'è niente di male di appunto darsi queste scuse legate all'effetto placebo, però forse ci sono dei contesti e quello che viviamo noi è un po' così, che è un contesto molto vicino di una disabilità che è quella della paralisi cerebrale infantile, quindi non di una malattia evolutiva, però di un qualcosa che accompagna questi bambini per tutto il corso della loro vita e su cui in realtà non ci sono grandi cure, grandi terapie se non legate appunto a comorbidità come l'epilessia o altre cose, però in realtà i nostri bambini non prendono grandi terapie. Eppure in realtà forse la nostra comunità è molto vulnerabile a quelle che possono essere le cure della speranza o le cure alternative. Quindi forse un effetto io lo vedo su questa comunità, è vero che magari parlare di una cura basata sulle vibrazioni o su altri tipi di terapie può non avere grandi effetti collaterali, ma forse distrae anche il paziente, il caregiver da quello che dovrebbe essere il suo percorso di cura diciamo tradizionale? Forse un po' distrae anche dalla compliance, dall'aderenza alla terapia, il provare diversi trattamenti sperando che questi facciano effetto? Sì, allora io credo che ogni famiglia sia un'isola, cioè al di là della letteratura e delle evidenze, poi nel momento in cui ci troviamo a decidere con i pazienti, nel caso vostro con le famiglie, che non è proprio la mia esperienza diretta, però immagino diciamo, ogni famiglia diciamo alle proprie narrative, alle proprie preferenze. Allora io su questo da genitore penso che nel momento in cui ho conosciuto Fight the Stroke, la cosa che mi è piaciuta tantissimo del vostro gruppo è che voi cercate di dare una sorta di empowerment alle famiglie, quindi la capacità critica di poter prendere le decisioni migliori per i propri bambini, ma sulla base di evidenze, cioè nel momento in cui io propongo al mio bambino una terapia riabilitativa, in qualche modo non posso pensare che sia un placebo, non è così, cioè un conto è la valeriana nell'adulto per dormire 20 minuti in più, un conto è una terapia riabilitativa in un bambino. Poi dipende, ci sono tipi di terapie riabilitative che possono piacere ai bambini, anche se magari non portano all'obiettivo del miglioramento funzionale, portano all'obiettivo della gioia per 5, 10, 15 minuti al giorno e quindi per quello dicevo che le nuance sono infinite, di base secondo me bisognerebbe applicare un alfabeto, cioè un principio per cui io genitore cerco i trattamenti che hanno un'evidenza di efficacia per il mio bambino e di miglioramento per quello che è il suo deficit, per quello che è il suo margine di miglioramento. Dopodiché da lì si può costruire, diciamo, sempre però avendo questa base di ricerca dell'efficacia e di ricerca delle migliori evidenze, direi di sì. Torniamo allora su questo, una mamma ci dice ma io come faccio a trovare delle pubblicazioni scientifiche vere, come faccio a riconoscerle? Quindi vogliamo accennare a questo problema delle fonti, su come si cercano le fonti e poi su come si leggono e si interpretano? Sì, allora diciamo che esiste una sorta di grande sito che raccoglie molte pubblicazioni scientifiche, alcune più affidabili e altre meno, che è PubMed, è uno dei siti. Quindi per finire su PubMed, come ricercatore, che sia un articolo, ci finiscono un po' tutti o c'è un criterio? Ci finiscono di buona e di bassa qualità. Te pensa che se anche io considero quelli che sono i giornali col più alto impact factor, cosa vuol dire? Cioè col più alto indice di condivisione fra ricercatori di quelle scoperte, quindi col più alto indice in teoria, traslando questo concetto di affidabilità, come New England Journal of Medicine, British Medical Journal, Lancet, JAMA, JAMA Internal Medicine, eccetera, non è detto che tutti i contenuti che io trovo lì dentro siano propriamente affidabili. Quindi non basta dire, l'ho letto su PubMed? No, assolutamente. Ti porto un esempio, che è un esempio un po' spinoso, però insomma è un esempio che è necessario fare, che è uno studio di cui ci siamo occupati per l'appunto come gruppo di ricerca, di valutazione critica, anche con l'Associazione Liberati, che è uno studio sulle conseguenze cardiovascolari della malattia di Covid-19. È uno studio pubblicato su Nature Medicine, quindi un giornale diciamo di grossa rilevanza, è un giornale diciamo una branca del giornale Nature, non è Nature ma è Nature Medicine e è uno studio questo osservazionale. E Nature, ricordiamolo, è una di quelle riviste un po' ambiziosi, se uno vuole pubblicare, pubblica su Nature, è un grande riconoscimento. Ambiziosissime. Allora, questo studio è uno studio cosiddetto osservazionale. Allora, gli studi si dividono in due categorie, studi sperimentali in genere e studi osservazionali. Gli studi sperimentali sono studi che di fatto studiano i trattamenti, quindi mettono i trattamenti a confronto. Sono i famosi studi clinici controllati e randomizzati, che sono l'apice diciamo della metodologia che ci permette di illuminare i rapporti causa-effetto. Anche gli studi randomizzati hanno le loro criticità, dipende da come sono fatti, però sempre per tornare al nostro alfabeto, cioè uno dei punti di riferimento di base li deve avere, sia che sia medico, sia che sia paziente. Quindi, se io voglio vedere se un trattamento è efficace, cerco, io da medico che voglio aiutare il mio paziente, ma anche io da genitore, io da paziente stesso cerco un'evidenza che derivi da uno studio randomizzato o meglio ancora da un insieme di studi randomizzati sull'argomento, che si chiama rassegna sistematica o metanalisi. Voi dicevi avete fatto questa metanalisi nel caso delle conseguenze del covid? No, no. Allora, questa è una categoria che sono gli studi sperimentali. Lasciamola da parte. Ci sono poi gli studi osservazionali dove i ricercatori non agiscono come negli studi sperimentali, cioè nello studio sperimentale tu dai un trattamento a un gruppo e magari un placebo all'altro. Negli studi osservazionali, come dice la parola, i ricercatori osservano, osservano quello che le persone fanno. In questo caso questi ricercatori che hanno pubblicato questo studio sulle conseguenze a un anno della covid-19, conseguenze cardiovascolari, hanno osservato migliaia, milioni di veterani americani, quindi sono persone che hanno avuto un certo tipo di vita, persone particolari, quindi ex impiegati nell'esercito, di età comunque dai 60 in su, prevalentemente di origine caucasica, quindi maschi, bianchi, intorno ai 65 anni e li hanno osservati in un periodo di tempo in cui ancora pochissime persone di questo gruppo erano vaccinate perché ancora non erano così diffuse le vaccinazioni per la covid-19. Ora, quello che hanno osservato questi ricercatori, loro hanno messo a confronto un gruppo di veterani affetti da covid-19, quindi con un tampone positivo a covid-19 con altri due gruppi, di milioni di veterani, che erano diciamo un gruppo di controllo contemporaneo, quindi di persone che non avevano un riscontro di positività al tampone per la covid-19 e un gruppo storico, un gruppo storico di veterani. E cosa hanno visto? Hanno visto che in una percentuale un pochino più alta le persone che avevano avuto il tampone positivo alla covid-19 avevano più infarti, più ictus, più problematiche diciamo di questo tipo a un anno. Ora, da qui tantissimi giornali, e questo è il lavoro che abbiamo fatto, tantissimi giornali italiani hanno riportato questa notizia come se effettivamente ci fosse un rapporto di causa ed effetto tra i covid e le complicanze cardiovascolari. In tutta la popolazione, quindi non in popolazioni specifiche come veterani, bianchi di 60 anni. E non vaccinati. E non vaccinati. Questo ha scatenato una paura importante, perché queste notizie sono state riportate da diversi giornali come un dato di fatto, come se ci fosse un rapporto causa-effetto tra questo e tra l'avere avuto un tampone positivo alla covid-19, al SARS-CoV-2 per la verità e l'avere avuto e l'avere più rischio di avere infarto e ictus. Ora, quindi la prima cosa da dire è che hanno applicato un'osservazione a una popolazione generale quando invece l'osservazione è stata riguarda una popolazione specifica, quindi di persone diciamo sull'inizio dell'anzianità, ex veterani e non vaccinati. Quindi, diciamo, questa è stata una specifica, è stata fatta da pochissimi giornali. Ma non solo, pensa che lo 0% di tutti i giornali italiani che nelle due settimane dopo l'uscita dello studio hanno coperto la notizia, ha scritto che questo è uno studio osservazionale e come tale non è una metodologia adeguata per poter darci la certezza sui rapporti causa-effetto. Perché non è la metodologia adeguata? Perché, secondo l'adagio anglosassone, correlazione non significa causalità. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che esistevano molti motivi per cui le persone con il tampone positivo alla Covid-19 potevano aver avuto più problematiche cardiovascolari. Una, semplicissima, è perché le persone col tampone positivo nell'anno 2020-2021 ricevevano più attenzione medica delle persone che non avevano avuto un tampone positivo. Quindi, diciamo che questa osservazione è un'osservazione del tutto preliminare e che poi, di fatto, per ora non è stata convalidata da studi che, per esempio, abbiano confrontato due gruppi con un gruppo di controllo affetto da altri tipi di infezioni. Perché in realtà, dimmi se sbaglio, su questo lo studio osservazionale dovrebbe anche essere una prima fase di osservazione per andare poi verso uno studio randomizzato. Quindi la sequenza ideale può essere questa? Questa può essere la sequenza ideale in molti casi quando tu studi un trattamento. Quando vuoi studiare, per esempio, l'incidenza di una determinata condizione come sequela di un'altra, lo studio osservazionale rimane il gold standard. Però lì bisogna vedere con chi confronti. Preghiamo anche questa parola, Camilla. Cosa vuol dire il gold standard? Vuol dire il riferimento per quella categoria? È difficile fare uno studio randomizzato per un quesito come questo. Gli studi randomizzati sono più associati allo studio dei trattamenti. Però è importante sapere che gli studi osservazionali ci forniscono, diciamo, delle osservazioni che sono preliminari e che quindi vanno convalidate. Per esempio, c'è un altro studio che ha confrontato due gruppi di persone, un gruppo con affetto, diciamo, dal SARS-CoV-2, un altro gruppo, con altri tipi di malattie virali come l'influenza o altri virus, e non hanno riscontrato una differenza, per esempio, nelle complicanze cardiovascolari tra questi due gruppi. Quindi, cioè, tutto questo per dire che bisogna essere molto prudenti nell'interpretare le evidenze, soprattutto quando queste vengono da studi osservazionali. Perché? Che due cose si verifichino temporalmente nello stesso tempo, non significa che ci sia una relazione causa-effetto tra queste. Per esempio, si fa sempre l'esempio dell'alba e del canto del gallo. Cioè, non è che è il gallo che fa sorgere il sole, ma è proprio questo che noi e che i giornali scrivono nel momento in cui danno per scontato che ci sia una relazione causa-effetto basata su dati solo osservazionali. Quindi, fammi capire, Camilla, se abbiamo capito bene. La prima cosa, la prima informazione riguarda questo tipo di studi. Quindi, sapere che questo studio lo trovavamo su PubMed o che era stato pubblicato da una rivista con un impact factor o una notorietà alta, non era comunque garanzia per noi di affidabilità. Quindi, già questa è qualcosa che ci portiamo a casa, che non è detto che tutto quello che troviamo su queste riviste o che poi viene ripreso anche dai media italiani, che, dicevi tu, nessuno di loro ha poi specificato le caratteristiche della composizione di questo studio. Quindi, come ci muoviamo, Camilla? Con questo ritorniamo sempre lì. Come ci orientiamo se non abbiamo più neanche questi punti di riferimento? Eh, appunto, cerchiamo di farci un nostro alfabeto. Quindi, impariamo a... Però questo richiede anche tanto tempo, no? Oltre alle competenze che magari possiamo acquisire, vuol dire che uno, per decidere se allarmarsi o no, se fare o no il vaccino, vuol dire che deve stare lì a studiare, a spulciarsi tutta questa letteratura? Per i bambini, l'ideale è cominciare a impararlo ovviamente da piccoli, perché si acquisisce una modalità di pensiero che poi viene automatica e quindi da adulti si fa molta più fatica. Qualsiasi mestiere si scelga poi di fare da adulti, noi saremo sempre pazienti. Prima o poi, per motivi piccoli o grandi, lo saremo. Quindi, quello sarà un ruolo che ci riguarderà e quindi è bene imparare certe cose da piccoli. Per gli adulti, invece, è più difficile. Però ci possiamo creare dei punti di riferimento, che siano un medico di fiducia, che siano dei concetti base, che, diciamo, da cui possiamo partire, da lì, appunto, si può partire per fare delle riflessioni. Per esempio, se io avessi trovato uno studio del genere sulle sequelle cardiovascolari della Covid-19, tu o magari chiunque di noi avremmo potuto parlare o con il nostro medico, o con un punto di riferimento, o tramite i social media, con magari qualche esperto che si presta a interagire con noi e chiedere, ma, visto che questo è uno studio osservazionale, cioè questo è quello che ci deve far sollevare le antenne, non è detto che questa associazione sia un'associazione causale, cioè per cui c'è un rapporto causa-effetto. Questa, intanto, è la prima cosa, perché nel momento in cui io leggo una cosa del genere e so che questo è uno studio osservazionale, dico, ok, bene, c'è un'osservazione, un'osservazione preliminare, discutiamone con qualcuno, però intanto questo non significa che ci sia un rapporto causa-effetto, cioè non significa che io devo correre, come invece tantissime persone hanno fatto, a far fare ai figli, ma anche a loro stessi, controlli cardiologici dopo delle forme lievi o un pochino più che lievi di Covid-19, perché questo forse non l'abbiamo detto, cioè c'è un distinguo chiaramente, nel momento in cui le persone hanno avuto una forma grave di malattia, come tutte le forme gravi di altre malattie virali, ci possono essere delle conseguenze che indeboliscono l'organismo, tra cui anche conseguenze cardiovascolari, perché te pensa, le malattie cardiovascolari poi sono tra le malattie più diffuse nella popolazione adulta, per cui è chiaro che se interviene qualcosa di acuto e di drammatico a impattare il nostro fisico, è possibile che si slatentizzi un problema cardiovascolare. Questo però vale non solo per la Covid-19, vale per aver avuto una polmonite importante con un quadro a focolai multipli a essere ricoverato in terapia intensiva da qualsiasi altra causa, o vale per aver avuto appunto una condizione acuta, per cui io sono stato necessitato di un trattamento intensivo per diverso tempo. Quindi, diciamo, quando, se uno dovesse dare un consiglio agli adulti, è quando si leggono le notizie mediche, cioè le notizie che riguardano la salute, prudenza, prudenza nell'interpretarle, nel momento in cui un trattamento ci viene presentato al 100% efficace, al 100% sicuro, purtroppo, non per essere nichilisti assolutamente, ma per avere uno scetticismo sano, bisogna diffidare. Perché, come si diceva all'inizio, ci sono tanti interessi in gioco. Ma adesso parliamo anche di questo, che mi sembra l'altro tema interessante. Volevo solo chiudere su questa parte qua, quando facevi riferimento al medico di fiducia. Questo è un consiglio che noi diamo spesso, che può essere una figura di, non so, nel nostro caso è sempre stata una sorta di mentore, un medico che abbiamo incontrato nel nostro percorso, che magari si occupa di altro oggi, per cui non sarebbe neanche lo specialista più adatto, però è quella persona alla quale in caso di dubbi o di emergenze o di approcci di nuove strade, nuove terapie, ci si consulta. Quindi forse, oltre al medico di base, al pediatra, che fanno parte un po' del patrimonio comune di tutti noi, però forse è anche buona, una buona indicazione, quella di avere un medico di fiducia, che ci permetta un po' di orientarci in questo mondo. Però tu ci stavi accennando proprio a un nuovo tema, che invece è quello dell'esperto, e noi anche questa figura dell'esperto l'abbiamo vista uscire fuori tanto nel periodo del Covid, attraverso i media, attraverso nuove forme di giornalismo scientifico. A quali esperti credere? E se è giusto credere agli esperti? Come si definiscono? Come si trovano? Cosa dobbiamo fare per orientarci in questo mondo in cui tutti sembrano esperti di tutto? Allora, senti, nel progetto dei bambini l'esperto viene definito semplicemente come qualcuno che sa molte cose su un determinato argomento, che è una definizione, la palistiana, ma direi esaustiva. E te pensa che nel momento in cui si vanno a insegnare ai bambini le cinque basi scorrette delle affermazioni sui trattamenti, l'esperto è una di queste. Quindi l'esperto è l'ultima, cioè le cinque basi scorrette sono che un'affermazione che riguarda un trattamento sulla salute non è affidabile se la base è l'esperienza personale di qualcuno, e lo abbiamo detto, se la base è che quello trattamento è stato usato da tanto tempo e da tante persone, vedi tanti prodotti erboristici o tanti rimedi fra virgolette della nonna, oppure l'affermazione non è affidabile se la base è che qualcuno che dice qualcosa su quel trattamento te lo vende anche, perché appunto c'è dietro diciamo forse la volontà di fare anche un profitto sul trattamento, e poi ci torniamo dopo, questo non esclude che l'affermazione sia valida e che chi ti vende il prodotto non sia in buona fede, però ci deve far sollevare comunque l'antenna e poi c'è anche infine il discorso che se qualcuno fa un'affermazione e ci dice quel trattamento è efficace, su che base lo dici? Perché io sono esperto, quella non è un'affermazione che per noi può essere affidabile e quell'affermazione lì non è sufficiente, perché non è sufficiente? Perché anche l'esperto che sa molte cose, molte più cose di noi su un argomento deve dimostrare di avere un metodo di valutazione critica delle prove scientifiche, quindi l'esperto che ci dice quel trattamento funziona sulla base della mia esperienza non è diciamo un esperto che prenderei appunto di riferimento, l'esperto che invece ci dice quel trattamento funziona, perché lo studio tale, la rassegna di studi, l'insieme di studi guarda in questa direzione, quindi ci dice che questo trattamento è efficace e ci dice quant'è l'efficacia e ci dice soprattutto anche quanti sono gli effetti collaterali del trattamento, perché poi si arriva anche alla bilancia dopo, allora sì, quello è un esperto di cui io mi posso fidare di più. Noi medici stessi non possiamo sapere tutto di tutto, quindi abbiamo anche a livello appunto non solo come colleghi di cui ci fidiamo e con cui ci consultiamo, ma anche a livello di colleghi che sono dall'altra parte del mondo, attraverso i social media si può riuscire ad avere una loro valutazione critica su un problema e magari su uno studio della letteratura che è un pochino problematico da interpretare e quindi diciamo si può attraverso la loro valutazione critica approdare a qualcosa di più. Quindi diciamo alla base di tutto ci deve essere un sistema di valutazione critica, non ci può essere l'autoreferenzialità, cioè l'autorità che dice che qualcosa funziona, perché lo dice l'autorità, è una medicina che ormai è superata, è andata, cioè se c'è una cosa bella che la medicina basata sulle prove, per quello dicevo strumento, insomma la health literacy ma anche la medicina basata sulle prove è uno strumento di democrazia, perché è uno strumento che possono usare tutti, cioè una volta la parola del professore universitario con tantissimi pazienti alle spalle, tantissima esperienza, valeva molto di più di quella dello specializzando, adesso diciamo che l'esperienza conta tantissimo, in certi casi è vitale e se ne fa dimostrazione insomma tutti i giorni nella pratica medica, però è anche vero che il giovane medico che riesce a trovare da una ricerca in letteratura una prova che un trattamento funzioni, è quello, cioè lo può fare tanto il professore universitario quanto lo specializzando, quanto il giovane medico, quindi in questo senso è stato uno strumento di democrazia. Quindi ancor più qui una volta non è l'unico, l'unica persona ma è il sistema quello che dicevi tu, acquisire anche fonti diverse, acquisire punti di riferimento diversi, magari questo ci dà una bussola in più per orientarci, anche se poi c'è sicuramente un ruolo dei media e su questo forse i media italiani non hanno brillato in eccesso di spirito critico in questo periodo qua perché se poi io vedo tutte le sere a telegiornale lo stesso esperto che mi cita anche degli studi che quindi io magari tendo a credermi ma l'ha detto questo altro mio collega che ha pubblicato su Nature questo studio poi magari io sono influenzata anche nel mio processo decisionale a pensare che se l'esperto lì è stato chiamato da diverse emittenti televisive beh probabilmente loro avranno già fatto questo lavoro di screening per me è vero e in realtà non è semplice perché si tratta di fare un'operazione un po' archeologica cioè bisogna scavare sotto l'ha detto lui l'ha detto il collega che ha pubblicato nel tale studio su Nature è un amico mio che ha fatto la prefazione al mio libro e allora se veramente è un qualcosa che a me interessa perché io devo prendere una decisione importante sulla mia salute perché per esempio ho avuto un infarto del mio cardio in passato e voglio capire se l'aver avuto la Covid-19 pur in forma lieve e pur da vaccinato significa che io ho un rischio aumentato quindi significa che devo fare dei controlli in più significa che devo fare degli esami in più quindi se c'è anche un'urgenza di rispondere a queste domande bisognerebbe o da soli o con l'aiuto di un medico di fiducia andare a vedere la fonte originale quindi che cosa si dice in questo articolo cos'è questo studio aspetta ma è uno studio osservazionale è vero che è fatto su milioni di persone ma è sempre un'osservazione cioè non è che il grosso numero ci garantisce il rapporto causale perché lo studio osservazionale di per sé non ci garantisce di illuminare i rapporti causa-effetto come si fa allora se io comincio a trovare non uno non due non tre ma diversi studi osservazionali che puntano tutti nella stessa direzione e questo è accaduto per esempio per il fumo per le conseguenze negative del fumo quindi lì abbiamo avuto sì delle evidenze di tipo osservazionale che ci hanno fatto vedere le conseguenze negative del fumo a livello di sviluppo di tumori ma anche a livello cardiovascolare ma è stata un'evidenza che è stata riscontrata in più studi osservazionali e non in uno o pochi quindi quindi anche qua non solo il sistema fatto di più persone ma anche il sistema fatto di una numerosità di fonti esatto cioè la coerenza tra le varie prove d'altronde appunto quello che si dice anche in questo progetto ai bambini è che nella scienza quanto più tu ripeti un'esperienza cioè uno studio un esperimento e ottieni lo stesso risultato tanto più puoi essere sicuro che quel risultato è affidabile e si avvicina in qualche modo alla cosiddetta verità quindi il metodo scientifico l'applicazione anche del metodo scientifico esatto senti parliamo affrontiamo un altro tema che era quello che citavi tu prima il conflitto di interesse è un'altra delle cose che ci possono far alzare le antenne se io mi definisco l'esperto di questo argomento e conosco tutte le caratteristiche di questa terapia poi te la vendo anche dici ma chissà se mi starà dicendo il vero o ha un interesse speculativo commerciale dietro quindi quanto credere alla comunicazione dei diversi brand dei farmaci o soprattutto anche delle comunicazioni che non riguardano prodotti strettamente medicali farmaci ma tutto ciò che sono farmaci da banco penso cose per cui ci sono delle pubblicità che alle quali noi siamo esposti in televisione o in farmacia direttamente allora intanto diciamo in Italia rispetto agli USA siamo abbastanza fortunati perché noi non abbiamo le pubblicità che riguardano i farmaci o i trattamenti per la salute invece loro sì quindi diciamo il mercato fra virgolette è addirittura un pochino più selvaggio però nemmeno noi siamo esenti dalla promozione del trattamento 100% sicuro e 100% efficace che è quello di cui si doveva diffidare e questo cosa significa non significa che nel momento in cui un'industria ci propone un trattamento noi dobbiamo essere cettici del tutto però dobbiamo in un angolino della nostra mente pensare ok ma dove sono le prove cioè non mi basta che l'industria mi dica che un prodotto funzioni come al solito l'operazione archeologica che tipo di studio c'è dietro questo trattamento c'è uno studio di confronto ok bene è un confronto giusto cosa vuol dire un confronto giusto anche questo sono cose che si insegnerà ai bambini vuol dire che il trattamento è stato attribuito ai due gruppi in modo casuale questa si chiama la randomizzazione la randomizzazione ci assicura per un procedimento matematico che i due gruppi siano bilanciati tra loro perché se tu assegni un trattamento a un gruppo di persone che sta già meglio e il trattamento l'altro trattamento a un gruppo di persone che sta già peggio è come io faccio l'esempio è come partire a una gara ma un gruppo parte 500 metri avanti e un gruppo 500 metri indietro quindi il risultato riguardo al confronto fra quei due trattamenti non sarà influenzato tanto dal trattamento quanto da come stavano le persone prima di aver assunto il trattamento quindi ci sono le prove lo studio è di confronto il confronto è un confronto randomizzato e questo già ci assicura il bilanciamento delle diciamo delle qualità di ciascuno dei due gruppi quindi che i gruppi siano fatti da persone più o meno con gli stessi fattori di rischio più o meno lo stesso livello di fumatori lo stesso livello di gravità di patologia eccetera eccetera seconda domanda le persone non dovrebbero sapere che trattamento assumere questo deve essere vero nella maggioranza dei casi perché se lo sapessero come abbiamo detto per la valeriana questo potrebbe influenzare talvolta il modo con cui si sentono e quindi anche qui falsare il risultato e lo studio e quindi andiamo a vedere le prove e se le prove sono diciamo prove che sono state condotte con un metodologicamente bene e questo poi anche il nostro medico di fiducia ci deve servire per interagire allora è ovvio che l'industria sta promuovendo un prodotto a cui si può aderire questo per esempio diciamo noi abbiamo avuto in questi ultimi due o tre anni l'esempio virtuoso della collaborazione tra gli stati l'industria e i ricercatori le università per i vaccini per la produzione esatto dei vaccini a mRNA questo è stato una diciamo collaborazione virtuosa e ha prodotto soprattutto in una prima fase meno dopo delle evidenze di grado ottimo cioè che hanno tantissimo aiutato noi medici e i pazienti a decidere come comportarsi perché effettivamente il vaccino questi vaccini hanno un effetto come trattamento un effetto importante sulla riduzione della mortalità e delle ospedalizzazioni per covid-19 non hanno né sono stati disegnati per avere un effetto nella riduzione del contagio questo era diciamo non è stato evidente da subito ma è stato evidente da poco dopo la pubblicazione degli studi però ecco non capita così spesso di avere a disposizione un campione mondiale tutti gli esperti che lavorano allo sviluppo di un vaccino e spesso ci troviamo anche ad essere esposti a prodotti di case farmaceutiche più piccole o di per cui tu oggi ci hai fatto intuire che sia nel costruire il disegno di ricerca che nella pubblicazione degli articoli ci sono delle regole da rispettare ci sono dei meccanismi che filtrano un po' l'organizzazione di questi processi e lo stesso forse c'è ma lo richiedo anche a te a livello di industria farmaceutica quindi il processo che porta poi a vendere un farmaco quindi gli studi che devono essere fatti per arrivare a vendere quel farmaco forse anche qui vale la pena dire che il piccolo che propone la ricetta o che è l'unico che propone quel rimedio è una fonte meno affidabile rispetto a un sistema più grande più controllato per definizione? Sì anche questo fa parte delle nostre basi quindi del nostro alfabeto cioè ci sono i sistemi di farmacovigilanza ci sono le agenzie regolatorie che ovviamente non immettono in commercio un prodotto a meno che non abbia quei determinati requisiti però anche qui e non lo sperimentiamo solo in Italia quanto anche con la FDA in America esistono dei modi per aggirare questo tipo di ostacoli e quindi non è sempre vero che il prodotto approvato dall'agenzia regolatoria è il prodotto con la migliore evidenza disponibile per me medico e per i pazienti per poter prendere delle decisioni di salute così informate c'è qualche esempio su questo? è stato vero per esempio per l'infetto degli anticorpi monoclonali che sono stati accolti con molta speranza però che di fatto fin da subito se uno faceva l'operazione archeologica di andare a vedere le prove non mostravano così tanta diciamo efficacia e però su quello diciamo le agenzie regolatorie per lo meno in Italia hanno cercato di indirizzare le istituzioni riuscendoci a volte a volte un pochino meno verso la decisione giusta una cosa che c'è mancata e si accennava forse prima sono stati però gli studi sui trattamenti non farmacologici per esempio per la covid-19 cioè per esempio sugli interventi di tipo ambientale quindi dispositivi di protezione individuale e interventi di tipo per esempio chiusure di alcune strutture chiusure delle scuole i vari lockdown a vari livelli questi sono stati studiati poco molto poco esiste proprio un database che ha immagazzinato tutti gli studi in preparazione per una futura pandemia in cui gli studi sui farmaci e sui trattamenti e sui vaccini sono un buon numero un numero importante mentre gli studi sugli interventi ambientali sono in numero ridicato è anche vero che ci sono dei contesti in cui è oggettivamente più difficile fare questi studi esatto è più difficile fare questi studi ci sono più fattori confondenti si rischia sempre di approdare a risultati spuntati però è anche vero che anche un risultato spuntato per una persona che deve decidere su un bambino o su una persona fragile è importante questo è molto tipico anche del nostro settore su cui ad esempio il problema motorio è il problema forse più evidente su cui si interviene solo con la riabilitazione e si fa fatica poi a confrontare su dei bambini che crescono e quindi sono in continua evoluzione su dei trattamenti che spesso sono manuali e quindi sono specifici adattati e tarati su quel bambino si fa fatica poi a costruire un disegno di ricerca che sia così che rispetti quei parametri ad esempio degli studi randomizzati che ci raccontavi tu prima infatti per questo tipo di quesiti ci sono proprio gli studi randomizzati cluster sono proprio un tipo di studi che viene usato in ambito educazionale ma anche di interventi di studio di interventi di salute pubblica quindi sono proprio disegnati per questi specifici quesiti e in questi studi non si randomizzano quindi non si attribuiscono trattamenti casuali a singole persone ma a gruppi e i trattamenti appunto sono interventi per esempio ambientali o comportamentali sono studi che si fanno meno su cui abbiamo molta meno esperienza che sarebbero stati così importanti in questi anni se qualche gruppo di ricerca qualcuno ci ha anche provato e qualcosa abbiamo però bisognava forse fare di più perché avremmo potuto accumulare ci sono degli argomenti che interessano anche meno i ricercatori che sono meno di moda si ritorna all'utilità della ricerca che pensa a quante persone sono serviti i farmaci dopo l'arrivo delle vaccinazioni sono serviti i farmaci per la covid-19 fortunatamente a poche persone cioè terapie per la malattia importante covid-19 invece pensa a quante persone poteva interessare uno studio o più studi su gli interventi ambientali o comportamentali che hanno riguardato di fatto tutti noi e anche i nostri bambini i nostri ragazzi chiudere le scuole o mettere le mascherine esatto senti ci avviamo verso la conclusione però volevo toccare ancora un paio di punti con te c'è un tema che spesso i genitori ci chiedono rispetto alle domande da fare al proprio medico perché forse pecchiamo anche noi pazienti o caregiver nel magari vado dal cardiologo e gli chiedo una consulenza sul sonno di mio figlio su come dorme o su un problema legato alla riabilitazione motoria forse dobbiamo educarci anche meglio noi a riconoscere il valore del singolo specialista c'è qualcosa che voi insegnate anche ai bambini che ci può essere utile nella conversazione con i medici allora sì gli diciamo che nel momento in cui devono prendere una decisione sulla salute quindi scegliere per esempio un trattamento ci sono alcune domande da fare e sono innanzitutto quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo trattamento laddove per vantaggi e svantaggi non si intende solo effetti positivi e negativi cioè per esempio farmi passare il mal di testa come effetto positivo della pillola per il mal di testa e effetto negativo farmi venire la nausea si intende un insieme più ampio del tipo il vantaggio è posso tornare prima a lavorare oppure lo svantaggio invece è devo andare in farmacia devo fare un prelievo due volte a settimana devo comprare quel trattamento che per me ha un peso economico perché non ho la possibilità di averlo tramite il sistema sanitario e c'è tutta l'esperienza d'uso esatto cioè tutto il bar il peso che ha un trattamento sul paziente perché quando tu prescrivi un trattamento devi pensare al peso dei vantaggi che avrà sul paziente oltre l'effetto semplicemente semplicemente insomma oltre l'effetto atteso di farlo star meglio ma anche tutto il resto tipo renderlo più in grado di fare lo sport che gli piace per esempio e però anche al peso di tutti gli svantaggi quindi viaggi all'ambulatorio i controlli il peso economico eccetera è per quello che quando sui giornali ma anche sulla pubblicazione di Nature è stato scritto che le persone dovevano fare controlli cardiologici sulla base di questo studio questo era un qualcosa di estremamente imprudente perché le persone cioè fare rendere rendere le persone di fatto con un'etichetta di malattia che magari ancora non è sicuro che dovessero avere quindi quando vado dal medico chiedergli i vantaggi e lo svantaggio di quella cura seconda cosa chiedergli cioè pensare cos'è più importante per noi o per nostro figlio nostra figlia per come noi la o lo conosciamo per come noi ci conosciamo cos'è più importante per la collettività perché le scelte di salute spesso ovviamente sono scelte non solo personali ma anche che si riflettono su tutti gli altri e soprattutto una domanda importantissima che non viene quasi mai fatta dai pazienti è che cosa mi succede se io questo trattamento non lo assumo come potrebbe andare cioè che cosa potrebbe succedere perché appunto talvolta non è mandatorio scegliere un trattamento c'è comunque un margine di scelta nel momento in cui un trattamento è mandatorio un medico te lo dice cioè ti pone sulla bilancia ti dice guarda che la bilancia pende dalla parte dei vantaggi non c'è dubbio ma molto molto spesso le conversazioni medico-paziente non sono così quindi dipende e quindi cosa succede se io non faccio questa terapia o se non la faccio per ora e quindi già questo ci orienta di più per esempio accade con gli interventi cardiochirurgici ci sono persone che hanno un problema una valvolina cardiaca che però è un problema che cresce nel tempo e bisogna scegliere il momento giusto per fare il determinato intervento il momento giusto non è una cosa così matematica per cui dipende anche dall'età della persona da quello che la persona si sente pronta ad affrontare e quindi talvolta capita che ci dicano ma se io non mi opero subito che cosa succede però è una domanda del tutto legittima lecita esatto quindi fare le domande giuste e allo specialista giusto perché anche questo poi è un qualcosa che influenza la risposta senti Camilla ti senti di dire qualche altra raccomandazione rispetto ormai abbiamo toccato credo un po' tutti i punti le indicazioni che diamo anche ai ai bambini ma che sono assolutamente valide per tutti un ultimo consiglio ma di scegliere come punto di riferimento una persona che non mette avanti la propria autorità quando deve dare delle risposte a noi ma mette avanti quello che è un ragionamento critico basato sui fatti perché poi di fatto insomma è vero che la medicina ha tante sfumature ma c'è una base di evidenze a cui ci si deve affidare e poi una persona che non abbia paura uno specialista di riferimento che non abbia paura a dialogare ecco che non abbia tabù legati al proprio ruolo perché perché è meglio perché magari anche ecco con questa assenza di dialogo noi la vediamo nel nostro settore sia fra specialisti che poi c'è molto idea di corporazione e quindi se vai in quel centro no non puoi andare in quest'altro centro io con quel medico non non ci parlo però forse anche un medico che nel dialogo sia aperto a valutare diversi trattamenti no che non dica che non sposi solo come se fosse un mantra una cosa unica disponibile sul mercato non sposi un'unica strada forse questo anche ci può far capire che è bellissimo perché c'è sempre una rosa di scelte di possibilità quindi sì sì senza dubbio quindi una persona che sia aperta al dialogo perché poi è questo quello di cui la persona ha bisogno per poter prendere una decisione per l'appunto informata quindi abbiamo capito comunque che si tratta di problemi complessi che difficilmente si prendono e da soli e senza dialogare e senza appunto confrontarsi e trovare diverse fonti quindi questo questo spirito di collaborazione magari ci deve animare anche nella ricerca di soluzioni per la salute senza dubbio Pamilla noi ti ringraziamo perché è stato molto utile vuoi lanciare un ultimo messaggio rispetto a scuole che magari volessero aderire al progetto di Inform del Choices ci sono delle opportunità anche adesso per per contattarvi Sì allora per diciamo le scuole che volessero aderire noi stiamo facendo dei corsi in varie regioni tramite gli uffici prevenzione regionali abbiamo fatto uno in Trentino uno in Umbria e diciamo quindi siamo aperti a chiunque insegnanti dirigenti scolastici o responsabili dei servizi dell'ufficio prevenzione che ci vogliano contattare e possono contattarci al magari lasciamo anche noi i vostri contatti sentono noi e noi vi mettiamo in contatto Sì e allora la mia mail è camilla.alderighi chiocciolina.gmail.com oppure informdelchoicesitalia chiocciolina.gmail.com perfetto grazie ancora Camilla e buon lavoro a tutti voi lavoro anche a voi grazie ciao a presto ciao ok ok a presto a presto a presto a presto a presto a presto